ben trovati davide il critico oggi facciamo la reaction alla seconda partita del torneo della youtuber summer cup nel primo episodio abbiamo perso contro il milan 2 a 0 sfortunati e probabilmente anche ingenui e inesperti questa gara invece è tutt'altro arriviamo alla fine per capire perché dico è tutt'altro sono tutt'altro che calmo visto ciò che accade al termine di questo video ma partiamo e guardiamo le cose con ordine la seconda sfida si chiama roma bologna e inizia così per noi gara già lo dico subito fondamentale perché la prima giochi contro milan tra i favoriti per il torneo noi sette ragazzi che più o meno ci conosciamo a roma durante l'evento secondo match questo contro la roma un'avversaria alla nostra portata per quello che abbiamo visto anche durante la giornata l'ultima sfida sarà contro la lazio campione della youtuber league si comincia c'è una pechini che fa tutto da solo pechini fino in fondo poi lì follia di pechini follia di pechini che decide di andare davanti c'è da dire che con il suo tiro può essere veramente pericoloso porta sguarnita e che arriva ragazzi che arriva il bonifazzi del mazzini la porta è vuota critico fucilata in cielo ecco così per per rendere subito gli animi tranquilli il kun si lascia andare a un intervinto non poco simpatico certo utile perché se ti parte cruz ragazzi cruz è uno dei giocatori più forti che è stato presente al torneo se ti parte da lì può essere pericoloso magari si poteva anche tirare la maglietta invece che dargli una stecca dopo un minuto e 14 secondi ma noi vogliamo bene alcuno lo stesso e probabilmente questo episodio non sarà il più chiacchierato nella partita io che invito la calma perché al settimo minuto ho già finito completamente l'ossigeno penso che sia poesia qui bel tiro è di pierino d'esterno bella anche la parata di antoine che botta di esterno destro alla quaresma grande parata da parte di antoine e poi rimessa laterale guizzo di genio del ragazzo che vedete là sopra che sta facendo il passaggio modestamente il numero 8 modestamente davide modestamente quello che sulle spalle ha scritto il critico vede un pierino che si intruffola nell'area di rigore alla aldo baglio in tre uomini in una gamba salta fuori dalle zolle grande intesa tra davide il critico il sottoscritto e pierino che va a esultare con gli altri io ero talmente teso che non sono neanche andato a esultare con gli altri pellegrino è rimasto a terra perché io gli sono entrati in un modo osceno e mi sono sentito un verme per tipo due giorni gli ho chiesto scusa tutte le volte che incontravo il suo sguardo perché oggettivamente adesso qua si può vedere un po' meglio non so se si vede bene qui è già tardi io gli prendo completamente ecco la caviglia non lo faccio apposta e purtroppo però il contatto c'è e mi dispiace e gli chiedo ancora scusa se dovesse vedere questo video per sbaglio comunque io mi fermo per chiamare l'attenzione dell'arbitro la Roma va avanti e si conclude qua un primo tempo un primo tempo nel quale appunti meritavamo qualcosina in più noi qualche tiretto della Roma c'è stato però l'occasione più nitida è quella del nostro gol cioè Pierino fa gol da dentro la porta praticamente qui io vado completamente a Funghi guardate come Raid fa il passaggio e io vado proprio guarda come vado a Funghi Funghi io sono quello lì l'otto e Marconi si fa ipnotizzare da un Pechini che comunque ha dato una bella bella sicurezza al nostro reparto guardate qua ragazzi noi tra Milan e Roma ci siamo mangiati tanti di quei gol ma tanti di quei gol ma tanti di quei gol che è una cosa incredibile Kuhn bravissimo a girarsi ci mancherebbe altro però da lì io l'avevo già contato che classe questo giocatore guardate come verticalizza molto autoreferenziale questo video bravissimo il Kuhn col fisico si sposta e non facciamo gol neanche con le mani cosa ho visto come ha lanciato la palla un gesto tecnico bruttissimo questo si è quasi dato una ginocchetta in faccia grande Sammo la palla salta anche si col fancora Oma fino in fondo in mezzo attuano la palla salta anche si col fancora Oma fino in fondo in mezzo attuano la palla neanche con le mani la porta è vuota e si divona il gol il 2-0 e se lì guardate ragazzi mi sono fatto imbucare ma ero stanco capitemi ero molto molto stanco questa partita è stata giocata tipo a luna di sera di notte ragazzi ragazzi cioè avete capito quanti gol ci si è mangiati in sta partita avete capito quante volte potevamo andare sul 2-0 e chiudere la partita lo avete capito cioè io non dovrei neanche spingere play voi guardate questa situazione e vi chiedete come può non essere andato 2-0 il Bologna come può quello è Pierino con la destra non so perché Oma non la passi subito non ho idea adesso c'è Pierino in mezzo tutto solo Antoine salva la Roma dal 2-0 questo io qui Rapolla mi tira la maglietta mi butta a terra guardate con quanta sportività io apprezzo il fallo subito tra l'altro gli svelo una retroscena io gli urlo ma se vuoi la maglietta te la regalo poi dopo tutto è rientrato abbiamo vissuto di quella gag per tipo due giorni però sì non ho preso bene la strattonata sono sincero anche perché non fa mai piacere cadere diciamo le cose come stanno gesto di frustrazione di Rapolla che si becca anche il giallo dai dai oh stai qua stai su stai su Mighi resta là è qua signori qual patatrack sicuramente Tiger sbaglia a fare quel retropassaggio ma non mi sento di colpe lovolizzaro perché ha fatto un grandissimo torneo uh qui il contrasto è durissimo il pallone è ancora lì fallo calcio di rigore questa è stata la scelta dell'arbitro questa è stata la scelta che ha influenzato al 100% questa competizione noi stiamo vincendo 1-0 è quasi finito il secondo tempo perché durano 15 minuti mancano 4 minuti e qualcosa non c'è il contatto ragazzi non c'è il contatto io anche oggi ho chiesto a Pecco gli ho chiesto ma tu l'hai toccato no Pierino si prende un calcio nessuno tocca Cruz nessuno nessuno non so chi abbia fatto questo fallo non so se l'ha fatto Pechini o Pier non si capisce non si sa nemmeno definire chi ha fatto il fallo lui crolla urla rigore no ve lo devo rifare vedere perché questo qua comprometta una competizione ragazzi facciamo i seri questo fallo qua di chi è di chi è di chi è sto fallo perché poi dai un rigore dai un rigore dai un rigore a Cruz che ha giocato a calcio ma il calcio vero come vuoi che finisca 1-1 al dodicesimo cioè noi alla fine abbiamo preso il gol dell'1-1 su sta pagliacciata perché questo rigore questo rigore qua questo questo rigore qua è una pagliacciata e non si può chiamare in altro modo è una pagliacciata è una pagliacciata non è rigore mai 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 il pareggio della Roma calcio di rigore imparabile forte poi Rapolla vediamo 70 il tocco per Cruz prende la mira Pechini ancora ancora Cruz incredibile davvero è un duello infinito quello tra Cruz e Pechini calcio di punizione per la Roma battuto subito attenzione a Raid palla sul destro rientra sul bacino Raid la puntata il pallone è lì incredibile qua ragazzi miracoloso Pechini miracoloso noi chiaramente abbiamo perso la testa abbiamo perso tutti quelli che erano gli schemi perché chiunque ha giocato a calcio sa che se gli ultimi due minuti prende un rigore del genere un po' ti scende la catena e abbiamo rischiato più quel minuto e mezzo che in due partite di youtuber summer cap questo è un grande miracolo di Pechini mancava solamente il danno e la beffa per fortuna Peco ci ha tolto la beffa però il danno c'è stato perché ragazzi quel rigore lì è un danno è un danno macroscopico Pechini incredibile doppio miracolo pazzesca pazzesca prestazione ai Pechini intanto qui rimane a terra qualcuno sta succedendo di tutto giallo per Antoine qui tutta l'educazione e la sportività di un portiere uno rimane per terra perché ha preso un calcio ti hanno regalato un rigore stai giocando tra non dico amici però persone che stanno non stanno giocando per soldi o altro si stanno provando anche a divertire è chiaro che è una partita e bisogna vincere e tu sportivamente insulti uno per terra già gli animi non erano sereni dopo il rigore quindi voi potete capire come proseguirà questo video con un portiere che urla in faccia a uno per terra che ha preso un calcio vediamo cosa può succedere qui Kun prende tutto tranne che pallone cioè prende Pellegrino lo scambia per un Super Santos e inizia a urlare Antoine inizia a urlare e qua chiaramente gli animi si scaldano e brutto gesto da parte di entrambi non si toccano in realtà troppo molto fumo brutta scena sicuramente da commentare io negli ultimi cinque minuti ero in panchina perché nei cambi ero stato selezionato come quello che stava in panchina agli ultimi minuti e dopo così è la fine della gara finisce 1-1 questa sfida ci rimane il rammarico ci rimane la rabbia perché perché questa roba qua fa venire rabbia questo contatto inesistente fa venire la rabbia potevano essere tre punti e passaggio del turno assicurato aspettiamo il prossimo video per vedere la sfida contro la Lazio perché ci sarà Lazio-Bologna delusione al massimo frustrazione anche dispiace dispiace siamo usciti dal campo molto 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 arrabbiati per questo episodio ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide Il Critico Iscrivevi al canale Iscrivevi al canale Iscrivevi al canale